Musica Benvenuti a Medicina News, il programma di salute e benessere in onda tutti i giovedì su Telenova News 2. Gli argomenti di oggi, il primo riguarda le piccole ferite, le lesioni e le ustioni, il secondo argomento invece tratterà l'ictus e la gestione dei pazienti con malattie croniche. Cominciamo a parlare di piccole ferite, tagli, abrasioni, scottature, insomma quei piccoli incidenti che possono capitare a casa o al lavoro e poi anche di quel fastidio, di quel disturbo, di quella condizione che colpisce gli adolescenti ma anche le persone sotto stress che sono i foruncoli e le piccole infezioni follicoli. Sono tutte situazioni che se trascurate o se trattate male possono portare a infezioni oppure a cicatrici antiestetiche. Quindi cominciamo a capire cosa sono e come funzionano con la dottoressa Atanasia Turlachi, dermatologo, e il dottor Pio Carlo Salare che è pediatra di consultorio. Buonasera a tutti e due e cominciamo con la dottoressa Turlachi a chiederle quali sono le principali infezioni che colpiscono la pelle. Tra l'altro un tema assolutamente attuale visto che andiamo verso l'estate tutte le infezioni cutanee superficiali diventano più frequenti in estate, un po' perché siamo più esposti all'ambiente, un po' perché con l'aumento delle temperature aumenta anche la carica batterica in generale. Allora, le problematiche più frequenti sono in primis le follicolitiche, sono delle infezioni che interessano il follicolo pilifero. Sono particolarmente frequenti fra le persone che si depilano con rasoio, soprattutto se non è proprio monouso, oppure le persone che portano indumenti stretti, sintetici, che fanno sudare tanto. Un altro problema, sempre che interessa il follicolo pilifero, è la foruncolosi, che sono delle infezioni più profonde rispetto alle follicolitiche che portano a necrosi del follicolo stesso. E questo è un problema perché provoca anche delle cicatrici. Quindi è importante in questi casi sia riconoscere ovviamente queste problematiche, ma anche prevenire le infezioni, che purtroppo sia ai bambini ma anche agli adulti possono lasciare delle cicatrici non indifferenti. L'infezione avviene, il batteri da dove entrano insomma per capirci? Ci sono diversi punti di ingresso, perché normalmente la nostra cute fa da barriera, però quando ci sono dei piccoli tagli, delle ferite, possono essere anche delle punture d'insetto, che sono frequentissime in estate, questa barriera cutanea avviene meno e si possono infettare anche dei tessuti interni che normalmente non vengono a contatto con l'esterno. I tagli ovviamente, chi lavora in cucina o chi ama cucinare, o anche quelli che fanno giardinaggio o altre cose, sono molto a rischio, oppure anche una banale carta d'ufficio può provocare un taglio come se fosse una lama tagliente. Esistono altre ferite, ho nominato prima le punture d'insetto, che tutti noi poi tendiamo a grattare e a sovrainfettare, oppure anche delle bruciature, sempre per chi lavora in cucina, o per chi stira, soprattutto noi donne direi. Certo, quindi anche le scottature possono aumentare il rischio di infezioni della pelle? Assolutamente sì, perché si scolla la parte superficiale della nostra pelle, si forma una bolla che poi si può aprire molto facilmente, e da lì entrano i batteri, soprattutto streptococchi e stafilococchi. Ecco, sono due situazioni ovviamente diverse, le ferite e l'ustioni. Come vengono trattate? Penso in modo diverso, ma in che modo? Vengono trattate in modo diverso sì e no, nel senso che esiste una base comune come approccio per tutte queste ferite, quindi la corretta pulizia, la disinfezione, anche la fasciatura e comunque il limitare il rapporto con l'ambiente esterno che è potenzialmente infetto, è assolutamente comune a tutti questi. però l'approccio sarà diverso per un'ustione ampia, diverso per un taglio o per un altro tipo di ferite. Dottor Salare da pediatra, la dottoressa ha parlato appunto di donne che si scottano con il ferro da stiro, eccetera, eccetera. I bambini però si sa escoriazioni, piccole ferite. Ecco, quali sono i problemi principali da questo punto di vista che lei vede nel suo ambulatorio? Ovviamente i bambini, soprattutto dall'anno e mezzo in poi, cominciano a correre, saltare, si arrampicano, rischiano di scivolare, cadere, farsi male. Alcuni dati della letteratura evidenziano come per esempio una visita su cinque in pronto soccorso sia dovuta a piccoli traumi. Il 2% delle visite ambulatoriali sono spesso legate alla necessità della mamma di sottoporre all'attenzione del pediatra una ferita. L'estate ovviamente è la stagione più a rischio, se così si può dire, e i maschi con una frequenza doppia rispetto alle femmine sono coloro che più spesso si fanno male. Il problema di queste piccole lesioni ovviamente è legato sia all'evento, per così dire, traumatico, sia alla gestione della lesione stessa. Possiamo distinguere essenzialmente abrasioni e scoriazioni, quindi lesioni più superficiali, lesioni più profonde, spesso determinate da corpi contundenti che possono anche rimanere all'interno dell'acute sotto forma di corpi estranei, lacerazioni che sono più frequenti nei bambini intorno ai due anni e sono le lesioni più complesse a seguito di margini irregolari, anche notevole irregolarità della lesione stessa che quindi predispone anche l'ingresso a eventuali microrganismi presenti sulla superficie cutanea. Infine le ustioni che raggruppano un ampio ventaglio di situazioni comprendenti per esempio l'ustione solare come pure l'ustione che il bambino si può procurare in casa purtroppo in occasione di incidenti domestici che dovrebbero essere opportunamente prevenuti. È importante ovviamente che il genitore o chi assiste all'evento innanzitutto non si faccia prendere dal panico, ricostruisca immediatamente l'accaduto perché è molto importante anche in sede di segnalazione al medico il racconto di come è avvenuto il piccolo trauma e provveda immediatamente a un'adeguata detersione sotto acqua corrente della ferita eventualmente anche asportando indumenti che dovessero costituire un ostacolo alla medicazione stessa. Nel caso sia una piccola ferita che può essere gestita dal genitore cosa può fare il genitore in questo senso? Ovviamente il genitore deve verificare lo stato di benessere generale del bambino quale sarà senz'altro spaventato sia per l'evento improvviso che ha vissuto sia eventualmente anche per la vista del sangue. Il bambino deve essere opportunamente sostenuto psicologicamente in modo da superare nel miglior modo possibile questo momento. Ricordiamo anche che i bambini più piccoli tendono ad assorbire l'ansia dei grandi e quindi di fronte a una caduta di fronte anche a un'esperienza che non si aspettavano possono in qualche modo sviluppare successivamente una fobia per esempio per la bicicletta come pure per un certo tipo di gioco e quindi l'atteggiamento dei genitori è fondamentale come sostegno psicologico e anche motivazionale al proseguimento poi di eventuali attività. ovviamente una caduta può diventare anche un'opportunità per insegnare al bambino a rispettare delle opportune norme di sicurezza. Dicevo la ferita va lavata sotto acqua corrente vanno mossi eventuali detriti quindi di polvere detriti e residui cutanei è importante allontanare tutte le possibili fonti di contaminazione in modo da pulirla e renderla il più possibile medicabile in tutta sicurezza. Il bambino deve essere ovviamente assistito durante questa fase non deve essere premiato possibilmente se si comporta bene perché questo potrebbe essere anche un incentivo poi in una successiva occasione a non prestare la dovuta attenzione alla sicurezza e è bene ovviamente non utilizzare dei disinfettanti come il vecchio alcol denaturato che oltre a bruciare, oltre a dar fastidio, ad essere irritanti indeboliscono anche la cute in quanto tendono a sciogliere i grassi di superficie che formano il cosiddetto film idrolipidico e in questo modo possono predisporre anche l'ingresso di eventuali microorganismi presenti sulla superficie. Dottoressa, una delle conseguenze delle ferite e delle ustioni possono essere le cicatrici come si possono evitare? Allora, le cicatrici ovviamente alcune non si possono evitare quando una lesione è grave, profonda è inevitabile possiamo cercare di rendere la pelle più protetta, più forte e comunque ridurre la possibilità di queste cicatrici con un intervento nostro, medico quando la ferita è grave oppure un'automedicazione efficace quando una ferita è abbastanza superficiale fermo restando, come diceva il collega che dobbiamo sempre prestare tanta attenzione alla disinfezione, alla pulizia e ripeto anche alla fasciatura comunque protezione dall'ambiente esterno dipende dalla quantità del tessuto perso quindi quando abbiamo delle ustioni molto ampie e dove si perdono tanti liquidi allora dobbiamo per forza andare in pronto soccorso se invece abbiamo a che fare con un'ustione piccola di piccola quantità l'automedicazione con i prodotti antibiotici solitamente quindi antibiotici, disinfettanti e cicatrizzanti e questo è il mix diciamo giusto per certamente una buona disinfezione in fase iniziale non utilizzare il cotone ma preferibilmente la garza che non lascia residui e l'applicazione di preparati contenenti antibiotici locali che tra l'altro hanno anche un'azione se vogliamo emolliente grazie a una serie di ecipienti che di solito contengono e possibilmente preparati contenenti amminoacidi che sono le strutture i mattoni delle proteine di cui la pelle tra l'altro ha particolare bisogno in fase di rigenerativa possono senz'altro aiutare una cicatrizzazione più rapida e prevenire anche la formazione poi delle cicatrici che purtroppo in alcuni bambini restano come un lontano ricordo di imprese più o meno eroiche va anche detto che il bambino spesso tende a grattarsi perché il processo di cicatrizzazione genera prurito quindi porta fastidio e sarebbe bene ovviamente educarlo a evitare di insistere in questa pratica perché l'asportazione prematura della crosta può ovviamente lasciare un tessuto sottostante può predisporre insomma alla formazione di piccole cicatrici che poi tendono a rimanere nel tempo benissimo grazie dottor Salari grazie a dottoressa Turlachi noi ci rivediamo tra pochi minuti per parlare di ictus e la gestione di malattie croniche prima però la linea e la regia per un breve break pubblicitario a tra poco se le piccole ferite si fanno ricordare è perché disinfettarle potrebbe non bastare puoi usare cicatrene con la sua doppiazione disinfetta grazie agli antibiotici e cicatrizza con l'aiuto degli aminoacidi in un solo semplice gesto per non ricordarti delle piccole ferite puoi ricordarti di cicatrene cicatrene tratta le ferite con cura è un medicinale usare con cautela leggere attentamente il foglio illustrativo